nell'area. Claudia? Proprio per questo, siccome delle cose in linea di principio nel decreto, che sono otto articoli, ci sono delle cose interessanti. Ricordiamola a tutti, il decreto arriva subito, salvo poi approvazione del Parlamento. Il decreto arriva subito, però questo entrerà in vigore quando sarà convertito e serviranno dei decreti ministeriali. Come sempre le attuazioni. Perché il contenuto di questo decreto, per buona parte, era già stato tentato nel 1998, però non furono mai fatti all'epoca questi decreti ministeriali attuativi e quindi rimase per lo più lettera morta. È una cosa che lo stesso ministro ha riconosciuto ieri in conferenza stampa quando è sceso dopo il Consiglio dei Ministri. Delle cose buone, interessanti ci sono. Ha ragione il collega. Perché per esempio... Claudio, meglio del collega. Claudio, vabbè, ora non siamo... Il collega è una cosa burocratica. È molto... Come diceva Carmelo Bene, campana a Dino per la critica elettorale della polizia. C'è ragione, però non volevo essere scortese fuori dalle regole. Insomma, quindi... Io vi chiamo per nome e potete benissimo. Allora, Claudio, come diceva Claudio, ci sono delle cose interessanti. Per esempio, anche questo controllo sul centro unico, sul CUP, qualche significato ce l'ha. Perché è vero che ci sono delle situazioni per cui nelle regioni dove i medici possono fare entrambe le cose, quindi sia lavorare in ospedale che in privato, ci sono un rapporto, così ha detto il ministro ieri, di 9 a 90. Cioè 9 visite fatte nel pubblico e 90 fatte nel privato. Quindi, per esempio, questa cosa non sarà più possibile. Perché tu devi lavorare nel privato e nel pubblico lo stesso numero di ore. Se puoi lavorare per cortesia, chiedono il sabato e la domenica e negli orari serali. Quella parte lì, gli straordinari non avranno tasse. Quindi, delle cose ci sono... Questa è l'utilizzazione, la massimizzazione dell'utilizzo delle strutture. Ma ha maggior ragione. Siccome sono cose senza soldi, sostanzialmente, perché per quei quali straordinari sono 250 milioni, perché non le hai fatte tre mesi fa, cinque mesi fa, sei mesi fa? Farlo oggi mette il re nudo proprio. Cioè, d'altra parte, è un mese che il Consiglio dei Ministri lavora tutte le settimane con provvedimenti di tipo elettorale. La casa, il salvacasa, la riforma della magistratura, come la chiamo io, e non della giustizia, questa cosa della sanità. Giovedì ci sarà un altro provvedimento che ha vagamente il sapore elettorale, e così via. Il Presidente del Consiglio, che è il Presidente del Consiglio, è anche candidata, nonché è leader del principale partito di maggioranza, ha deciso di confondere i ruoli. Non so quanto questo sia corretto, però così è. Giulia, c'è un problema in tutto questo, che è quello che ricorda sempre il Ministro dell'Economia, Giorgetti, è che qualunque cosa si fa.